Una truffa ai danni dei tifosi della Juventus disposti a spendere qualsiasi cifra pur di vedere giocare la squadra del cuore è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Torino che hanno eseguito nove misure cautelari di divieto di dimora a Torino e di obbligo di firma. Al centro dell'inchiesta nove bagarini di origine napoletana che vendevano biglietti falsi fuori dallo stadio. L'accusa è di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. In occasione delle partite di campionato di Champions League della Juventus il gruppo adescava i tifosi tramite un sito internet di annunci gratuiti. Lo scambio di denaro e biglietti falsi avveniva in stazione e fuori dall'Allianz Stadium. Quando i tifosi arrivavano ai tornelli per assistere alla partita scoprivano però che i biglietti erano falsi. Le indagini condotte dal nucleo operativo della compagnia Oltredora sono durate quattro mesi. 24 i biglietti contraffatti venduti per un valore di circa 4.000 euro e 32 i biglietti falsi sequestrati pronti a essere messi in commercio. 16 gli episodi contestati alla banda di bagarini. Tra questi biglietti falsi venduti per la partita di campionato Juventus-Milan dello scorso 6 aprile e per le partite di Champions League Juventus-Atletico Madrid del 12 marzo e Juventus-Ajax del 16 aprile. La banda raggirava tifosi juventini per lo più stranieri.